Miriam Leone e il suo make-up da dark lady, ecco la reazione dei fan Miriam Leone è la trendsetter del momento su Instagram, quasi ogni giorno condivide foto che conquistano il pubblico con i suoi outfit e make-up da imitare La sua bellezza naturale è certamente un punto di forza e i commenti dei suoi follower lo confermano, ogni post è apprezzato da centinaia di persone che la riempiono di complimenti e ne ammirano sia il talento, sia il fascino Una delle ultime foto pubblicate sul suo profilo la ritrae con un make-up da dark lady che ha colpito i fan, il suo sguardo magnetico era irresistibile Un make-up da imitare Miriam Leone è considerata una trendsetter, oltre ad essere un'attrice di successo, perché propone sul social outfit e make-up che chiunque può imitare Questo la rende ancora più ammirata dal pubblico del web, perché valorizza la sua semplicità Senza tanti giri di parole o foto elaborate con Photoshop, la star comunica in modo autentico con il proprio pubblico, rendendoli partecipi della sua vita privata La foto pubblicata poche ore fa è stato un perfetto esempio di come la Leone riesca a comunicare in modo efficace su social, il suo selfie in primo piano mostrava i lineamenti del suo viso, valorizzati con un make-up da dark lady La caption augurava una buona serata a tutti e in poco tempo il post ha raggiunto un successo senza precedenti, con oltre 33 mila i like e più di 200 i commenti di apprezzamento Il suo make-up è stato particolarmente efficace, spesso sui social si mostra struccata oppure con trucchi molto leggeri con un effetto nude, ma questa volta ha sfoggiato un ombretto brillantinato sulle tinte scure, un mascara che allungava le ciglia, unghie con uno smalto bordeaux e labbra nude Non accade spesso di vedere Miriam Leone con un make-up così scuro, ma di certo valorizza molto bene i suoi occhi chiari Instagram e i look esplosivi di Miriam Leone Su Instagram Miriam Leone dà il meglio di sé, il look che spoggia sono esplosivi e affascinanti, ma mai eccessivi Oltre al make-up da Dark Lady, la star si mostra spesso con abiti chiari, costituiti da un'ampia gonna e da un top con canottiera Non mancano però le occasioni importanti, come le serate di gala, in cui Miriam sfoggia abiti chic ed eleganti, un esempio è stata la serata di Vogue, in cui l'attrice ha indossato un abito di Gucci rosso fuoco con un decoro sul fianco Durante le giornate normali, la Leone si mostra con abiti spesso bontone con uno stile francese, ampie gonne floreali, maglioni dalle tinte chiare, abiti graziosi e delicati che ricordano sempre la primavera Molto importante in questo ambito è stata la sua collaborazione con il brand Gucci, nelle ultime foto infatti, la star di origini siciliana indossa spesso outfit firmati dal marchio fiorentino, in particolare Miriam Leone ha condiviso su Instagram la foto pubblicata dalla griffe di moda, in cui ha fatto da testimonial indossando un completo con pattern vintage e colori decisamente esplosivi Grazie a tutti